Buongiorno e bentornati in Autosmile, oggi vi presentiamo questa icona dell'automobilismo europeo è la Volkswagen Golf allestimento R-Line è la Golf 7, cambio automatico DSG, oltre al R-Line è anche allestimento Sport è il 1.5 benzina ACT con la disattivazione automatica dei cilindri, TSI turbo benzina, 150 cavalli, sono 110 kilowatt ha 42.100 chilometri circa ed è del giugno 2019 e adesso andremo a presentarvela circa in lega da 18 pollici, l'allestimento R-Line ovviamente ha anche i paraurti modificati anteriori e posteriori sensori in parcheggio anteriori e posteriori e fare full LED guardate com'è tenuta la vettura, noi cerchiamo sempre dalle fotografie e dai filmati che vi condividiamo di trasmettervi la qualità delle vetture che selezioniamo per voi una vettura molto sportiva con l'assetto sportivo e interni sportivi che andremo a scoprire dopo vetri oscurati posteriori oltre che l'assetto sportivo andiamo a prendere il bagagliaio girando il marchio e questo è un vano bagagli molto ampio in fondo la Golf diciamo che non ha bisogno tante rappresentazioni tutto il vestito in moquette qua è talcelsa col vano doppio fondo ruotino di scorta come potete vedere il doppio fondo si può abbassare aumentando nettamente il vano bagagli se fuori è bella dentro è divina perché è bellissimo questo alcantara tessuto tanto spazio per i passeggeri sul divanetto posteriori per le gambe infatti tre persone anche in statura medio alta stanno comode bracciola anteriore e posteriore guardate come sono tenuti i sedili anche quello guida guardate ovviamente anche questa vettura è dotata di chiave doppia chiave e tutti i libretti uso e manutenzione lettore cd con sd card sistema keyless perciò con la chiave in tasca voi l'aprite basta toccare la portiera e come potrete notare si aprono anche gli specchietti specchietti elettrici sbrinabili e richiudibili elettricamente ovviamente vetri elettrici anteriore e posteriori pensate come è riferita questa Golf questa qui la tasca interna del della portiera lato guida ed è tutta rivestita in moquette questo è il sedile lato guida ovviamente forgiati R di R line splendida questa è veramente una macchina molto molto bella confortevole sportiva allo stesso tempo è successo della Golf per l'esattezza come potete vedere 42.104 chilometri ho girato il quadro tutto touchscreen ovviamente android auto apple carplay climatizzatore di zona deve essere sinistra separato una macchina eccellente cambio dsg questo qui è il tasto dei sensori anteriori start and stop e per l'accensione del veicolo un bellissimo volantino piccolo corona molto piccola rivestita in pelle con tutti i comandi anche il cruise control adattativo perciò più selezionate questo tasto più aumenta o diminuisce la distanza dal veicolo che precede perciò nel classico cruise control ma è evoluto questi sono i comandi del cambio al volante col più siamo schiacciando questa leva aumentano le marce e con il meno quest'altra leva scendono le marce in scalata come dicevo prima tutto touchscreen dsg è la sigla che contraddistingue i cambi doppia frizione di woswagen sedili molto belli sagomati comunque come al solito il nostro invito è non fidatevi di quello che vi diciamo ma prendete appuntamento chiamateci e venite a provare e vedere voi personalmente la vettura capirete di che cosa stiamo parlando adesso andiamo all'interno anzi andiamo a visionare esternamente questo gioiello quattro cilindri 1500 con disattivazione automatica dei dei cilindri all'occorrenza va a due cilindri o quattro cilindri a seconda della richiesta che fa sì che abbiate dei consumi veramente molto bassi è un 1500 perciò l'assicurazione anche lei molto bassa 150 cavalli 110 kilowatt è un ottimo prodotto comunque quando verrete a provarla su strada capirete veramente che prodotto abbiamo selezionato riassumendo questa volkswagen golf settima serie vi aspetta qui nella nostra sede di secuniago in provincia di lodi vi invitiamo a venire a visionare provarla ovviamente previo contatto così sarete certi che sia ancora disponibile è un 1.5 benzina turbo da 150 cavalli allestimento sport r line fari full led da tanti accessori extra oltre al colore noi offriamo la garanzia di 12 mesi comunque estendibile fino a quattro anni anche questa gode della promozione smile fin del finanziamento con lo 0 per cento di anticipo comunque sarà l'occasione della vostra visita che i nostri consulenti potranno spiegarvi tutto nei minimi particolari contattateci prima che questa vettura non sia più disponibile per la vendita vi aspettiamo